buongiorno buongiorno il contatto di corretto lunedì mamma mia come siamo sincronizzati quest'oggi buongiorno buongiorno Lorenzo Masieri buongiorno a Fabio Ranfi e buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando su Cristal Radio benvenuti su qui su Cristal Radio su Milano News su una nuova puntata a vedere ad ascoltare vedere rivedere perché poi sapete che potete anche riascoltarci volendo poi in replay durante la giornata beh comunque siamo qui a Good Morning Milano 7.05 lunedì 25 settembre lunedì fresco molto molto fresco poi adesso vedremo cosa dicono le temperature per oggi in realtà dicono che poi sono in risalita nel senso che comunque soleggiato 23 gradi danno avevo letto anche di più vedremo vedremo come andrà nel senso che appunto preparatevi questo è il periodo cipolla cioè quando devi vestirti a strati quindi preparatevi così però non dovrebbe piovere oggi giusto? No oggi no oggi no soprattutto la settimana oggi niente settimana dopo quello che ha fatto settimana infatti 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 quindi settimana in teoria tranquilla speriamo tutto bene sta di fatto che appunto però la mattina attenzione le temperature sono un po' scese quindi attenzione quando uscite la mattina così questa mattina mi hai detto volevi venire in bicicletta invece poi alla fine hai desistito sì sì no freschino e poi i muscoli sono quelli delle sei e mezzo neanche il giro d'Italia parte così presto già durante il giorno i muscoli sono quelli delle sei e mezza sempre e quindi siamo qui comunque fino alle nove in diretta su Cristal Radio e Milano News 331 78 53 555 partiamo subito con un po' di musica perché partiamo subito con la grande musica di Cristal Radio ma poi oggi abbiamo poi ospiti rubriche insomma come sempre tante cose qui a Good Morning Milano a fra poco Uè bambola Uè bambola Uè bambola Uè bambola Mehdi Mehdi bambola featuring Andrew The Hitmaker C'hai capito The Hitmaker quello che fa l'It C'hai capito Né un John John and Paul No O Mick Jagger no The Hitmaker Quello che fa l'It Vabbè grazie Hitmaker ti ascolteremo tutti i giorni durante la settimana Bello che poi per bigotto passo io che dico che non mi fanno impazzire ste cose Il problema è quello Ma mi piace in realtà A me non mi piaceva invece Bambola Bambola Non era niente male Non era niente male invece Sai che a me sta musica da giovane mi piace Mi sento più giovane E invece dobbiamo scendere negli miandri dell'informazione locale Che triste come se no Ci sono un po' di notizie Sì Anche valide oggi Maggior parte anche triste Ecco Maggior parte anche triste Però vabbè Partiamo con l'evento della settimana alla fine L'hanno definito il concetto dell'anno L'hanno definito Adesso io Mi sono un po' esagerato Esatto Considerando che c'era Beh io ho visto i vip che c'erano tutti E c'era Madeus Ho visto C'era mezza lì di Gemma Perché avevano anche lo studio lì Sì lo studio lì Ma c'erano tutti C'erano tutti quella televisione Il concetto dell'anno Io sapevo fino a prova contraria Che quest'anno è stato quello di Harry Styles All'RFC Arena Di Reggio Emilia Eh buono Siamo così milanesi Che sai che Devo sempre dire che Ma comunque di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del Marrakesh Marrakesh Ma del Marrakesh Dillo tu che di noi non mi viene Marrakesh Grazie Evento del Appunto secondo qualcuno Evento dell'anno Ma soprattutto Evento che Ha coinvolto i milanesi Non solo quelli che hanno partecipato all'evento Ma buona parte degli abitanti Del municipio 7 e 8 Perché Come appunto abbiamo parlato Due settimane fa Ormai con Silvia Fossati Presidente del municipio 7 Puntata che vi invitiamo a Recuperare Ci sono stati chiaramente Disagi Recati dal fatto che Oltre 150 mila persone Si muovevano Verso Due poli Che sono a distanza di quanto? Meno di un chilometro Sì Meno di un chilometro Perché? Perché c'era Milan-Verona Alle 15 E appunto All'ippodromo Il concerto di Marrakesh La Fatale Verona No veramente So che c'è sta roba con il Milan Il concerto di Marrakesh Che non è un semplice concerto Ma un festival Quindi Anche se è stata anticipata Come appunto ci diceva La presidente del municipio 7 Silvia Fossati La partita Alle 15 Comunque Già Che poi comunque Si è stata rinviata Perché C'era il campo impraticabile Quindi è andato Alle 15 e 30 Quindi alla fine L'uscita dallo stadio Ha coinciso precisamente Con l'ingresso Di quelli che andavano Cioè La grossa parte Che andava al concerto Appunto Non era un concerto normale Ma abbiamo messo un festival Che iniziava Se non sbaglio Alle 17 Cancelli aperti Alle 14 e 30 Sostanzialmente Tutti Secondo tutti Tutti i giornali Tutti i giornali Tranne uno Tranne te Tranne te C'era anche luce Anche Fabio Fibro Tranne uno Repubblica Dice che Con 100 vigili Il comune È riuscito ad evitare il caos Mentre tutte le altre testate Sostanzialmente Denunciano Il fatto che ci siano stati Dei disagi E qui ci chiediamo Ma com'è possibile Che la stessa notizia Sia vissuta così Diametralmente opposta Da due O dalla parte o dall'altra Deve essere Da dire È un po' difficile No? Facciamo a sapere Dov'è la ragione Allora Possiamo portare La nostra testimonianza Però come è semplice A stare attenti Perché lì È un po' di Analfabetismo Funzionale No? Sare come dici Ah è così perché l'ho visto Non l'ho detto Devo dire però Che da quanto appunto Ci si diceva Quella sera Tra noi Che stavamo Perché allora cosa c'è Noi di Milano Abbiamo la sede Da questa parte Diciamo Dello stadio di San Sirono Verso Trenno Verso La Via Novara Altri conosciamo Stanno invece Dall'altra parte Verso Ippodromo Di là Sembra che ci sia stato Veramente il caos Di qui Alle 5 e mezza La Via Novara Era completamente bloccata In uscita da Milano Ma comunque Poi la situazione Nel giro di un'oretta È andata a posto Durante il concerto Io sono uscito A fare un giro Appunto in queste zone qua Completamente Volume Volume Pazzesco Volume Pazzesco Sembrava che Suonassero qui In cortile con noi Cioè si sentiva Anche quando parlavano Tra una canzone e l'altra Il discorso E capivi cosa dicevano Cosa che invece Mi dicevano Che chi stava lì Sentiva male Alla Maura È il classico Dei grandi eventi Infatti Invece qui Insomma Rimbombando bene Facendo cassa acustica Nei palazzi vari Sentiva benissimo La situazione I parcheggi Ovviamente delirante Macchine Posteggiate ovunque Dall'altra parte Poi mi dicevano Che oltre al fatto Di avere macchine Posteggiate ovunque C'è anche gente Praticamente Accampata Un po' ovunque E auto Che veramente L'hanno trovata ovunque C'è nei parchetti Sulle wall Mi fai fare Mi dai un gancio Pauroso Perché Posteggi Esagerati Creativi Eccetera Ieri Sapevi che c'è stato Il No Parking Day Invece E infatti C'era No Parking Day Che voleva dire Andare al concerto Di Marrakesh E non sapere dove parcheggiare No cosa voleva Era la risposta Al giorno prima No stiamo scherzando No Parking Day Era una giornata Voluta appunto Dal comune di Milano Per togliere Le auto Da nove Vie milanesi Una per Municipio E sostanzialmente Dedicarle a laboratori Vari Iniziative varie Eccetera Chiaramente Non sono stati tutti favorevoli Dopo leggere Dopo lo leggiamo bene Però parliamo appunto Di durabilità Di trasporti Di traffico Perché ci colleghiamo adesso Con la redazione Di Luce Verde Che in diretta Ci dà la situazione Del traffico Sulla città di Milano E dopo ovviamente A questo punto Ci scordiamo anche Marrakesh Insomma ci sta Abbiamo parlato Del Marra E quindi dobbiamo farlo ascoltare 3317853555 Il nostro mondo di Whatsapp Buongiorno anche a te Adriana Adriana ci manda un buongiorno Fabio Lorenzo Con la foto Della colazione Che dopo appunto Andremo a vedere Luce Verde Traffico su Milano Sei importante Sei importante Lorenzo Sei importantissimo Per questa trasmissione Tu Perché senza di te Ho capito Potrei farla da solo Perché sono bravissimo A fare la radio Lo dicono tutti Tutti quelli che scrivono i messaggi Scrivono Fabio Sei bravissimo Peccato per la voce Che c'è di fianco a te Così al 3317853555 Io leggo un Buongiorno Fabio Buongiorno Lorenzo Con l'annessa La foto della colazione Non è buongiorno Lorenzo Buongiorno Fabio Buongiorno Fabio In rigoroso ordine alfabetico In realtà è quello Hai dovuto pensare Ci ha dovuto pensare Allora 719 Andate a rivedere il pezzo Sul video di Milano News Lorenzo Masieri Che guarda il cielo Come un Con un qualsiasi Carlo Verdone In questo senso Ecco E guarda il cielo Pensando se la F Viene prima della L Spido a trovare qualcuno Che mentre fa la settimana Enigmistica Quando legge Sta tra la P e la C Dico delle lettere a caso Non sta da fare A, B, C, D, E È chiaro Per forza Però ci sono Però io so Ad esempio Dei pezzi Dell'alfabeto Da partire P, Q, R, S, T, U, V, Z L, M, N, O Brava Capito Vedi Cioè lì riesco a partire Altre lettere No devo fare Dalla A, B, C, D Effettivamente Vedi Bene Tutto questo Pensate Che questi due personaggi Che non sanno neanche dire L'alfabeto A random Cioè prendendolo da pezzi Sono quelli che vi danno Le informazioni della mattina Esatto E quindi appunto Dai giornali locali Cosa leggiamo? Recuperiamo un attimo Appunto Il discorso Che abbiamo iniziato prima Sul No Parking Day Che ha diviso Anche un Folto gruppo Partitico Come Europa Verde Non è facile dividerlo Abbiamo notato ultimamente Perché come sapete L'assessore al verde Del comune di Milano Appunto in quota È Europa Verde È Elena Grandi Che ha parlato Di strade restituite Alla città Mentre all'interno Allo stesso gruppo Carlo Monguzzi Che è intervenuto Settimana scorsa Se non sbaglio Ai nostri microfoni Il liquido Al parking day Il No Parking Day Parlando di nove strade chiuse Su 4.000 E aggiungendo Che dopo i morti E le proteste Degli ultimi giorni Ci si aspettava Risposte serie e concrete Ecco C'è da dire una cosa Sapete quanto io sono Si può confessare La mia simpatia Verso Monguzzi A me piace Monguzzi Mi sta simpatico proprio Perché poi è sempre È sempre polemico Quando ci sono le riunioni A lui si alza Prende e va in giro A fare i suoi show Che io adoro In realtà Quello Sì no lo adoro Devo dire Da quel punto di vista Mi piace tantissimo Molto teatrale anche Però espressamente Poi dalla teatralità Esce la realtà anche Cioè effettivamente 4.000 strade a Milano Facciamo tutto sto bailame No parking day Su nove strade Tra cui ad esempio Vi faccio l'esempio Di quel municipio 7 È una strada senza uscita Quindi già che già Comunque non è che sia Poi così utilizzata Insomma Dall'altra parte però Posso dire a Monguzzi Che quello del no parking day Che è stato fatto ieri Era una roba in programma Già da giugno Maggio dell'anno scorso Quando appunto Il municipio ne parlò La prima volta Quindi Non si può correlare Ovviamente A con le morti Le proteste di questi giorni Quello che era già Stato organizzato Diciamo Leggo anche appunto Cosa dice Francesco Rocca Capogruppo di Fratelli d'Italia Si è trattato Di un'iniziativa ideologica Adesso a parte questo Comunque è chiaro Che fosse simbolica Come manifestazione Si effettivamente Quel 9 a 4 mila Fa effettivamente Un po' senso Fa sorridere poi Che in tutto questo bailame Carlo Monguzzi E Fratelli d'Italia La pensano uguale Cioè quindi Insomma C'è qualcosa nel mondo Che va storto Comunque che gira male Non so come dire Ma il comune di Milano Diciamo Avrà maniera di recuperare Perché ha trovato Quest'iniziativa Un po' un'iniziativa simbolica A metà perché Ma tutto simbolico Ma quando è che si fanno Le cose Quando è che fanno Domani Domani perché inizia La Milano Green Week 2023 Oh che bello L'ennesima week Che dove è quanto Dal 20 Meno di una week Meno di una week Ma io Dal 26 settembre Al primo ottobre No no ci sta Giusto giusto Una week giusto giusto Primo ottobre Un ricco palinsesto Di appuntamenti Oltre 350 eventi Per affrontare E contrastare Il cambiamento climatico Titola Il giorno Milano Il primo ottobre È domenica Quindi Dal 20 Da domani Da martedì a domenica Vabbè una week Un po' così Sì non c'è lunedì Diciamo Una week corta Una week di quei paesi Esatto Che sperimentano Una settimana corta Ma comunque Chiamiamola week Chiamiamola come volete Green week simbolica Speriamo comunque Che ne vengano fuori Qualche soluzione Speriamo che questa città Riesca un attimino A giostrarsi E probabilmente C'è anche il problema Di giostrai Poi magari lo ricordiamo dopo A giostrarsi Tra quello che appunto È il bisogno Di tecnologia Il bisogno di avanzamento Il bisogno di progresso Della città E dall'altra Il bisogno di arrivare Vivi A casa in bicicletta Di arrivare vivi Sì da tumori Per l'inquinamento Insomma Non è facile Secondo me Dicevi Lorenzo? No volevo leggere Semplicemente La dichiarazione Di Elena Grandi Appunto assessora Alverde Del comune di Milano Sempre su No Parking Day O sulla Green Week No sulla Green Week Perché dopo la tempesta Che ha colpito Milano A luglio Ha spiegato l'assessore Appunto Abbiamo deciso Che la Green Week Del 2023 Sarebbe stata l'occasione Che non dovevamo perdere Per parlare Di quello che era successo Delle cause Conseguenze Ecco posso dire una mia? Prego Sbagliatissimo Sbagliato Basta andare dietro Alle emergenze Io non me ne frega Non me ne frega niente Allora è successo Quello che è successo Va bene Parliamo del rifragio Che potrebbe succedere Nel 2029 Non di quello Che è successo Nel 2023 Parliamo di quello Che potrebbe succedere Nel 2030 Facciamo la Green Week Potremmo i cervelloni Qui a spremersi Le meningi Su quello che sarà Non su quello che è stato Scusami C'è scritto letteralmente Sempre nel suo articolo Del giorno Milano In termini di gestione Dell'emergenza Che si concluderà Con uno sguardo Al futuro Si concluderà Parti col futuro Per capire Come sistemare l'emergenza Scusate Mi sono inalberato Ma per fortuna Arriva Cesare Cremonini A farci cantare Tutti quanti A fra poco Sciade Per sempre mai Io mio Non l'ho visto Al volo Non l'ho visto Come era il titolo Della canzone Che tristezza Che tristezza Per sempre mai Ho letto giusto All'ultimo è venuto Il dubbio che fosse mia Invece no Per sempre mai Con Federica Carta Che non è Marco Carta Che era un altro Non sa mai Magari cambia nome Nella sua vita Come sappiamo Carta Canta Beh Bella Perché non abbiamo Gli applausi finti Questa mi è piaciuta Carta Canta I Carta Canta Perché sono più di uno A questo punto Comunque 7.32 minuti 3-3-1-7-8-5-3-5-3-5-5-5-5 Grazie mille Per i whatsapp Che ci state scrivendo Buongiorno Anche a voi Grazie Delle vostre colazioni Che mi fanno venire Fammi perché Non ho fatto colazione Questa mattina Dovevo prendere la banana Devo mangiare una banana Ma non l'ho presa su Quindi Questo in realtà Un messaggio subliminale Per chi è dall'altra parte Che potrebbe passare A prendermi la banana E portarla qui in studio Ma Andiamo avanti Notizie dai giornali Notizie dai giornali Breve blocco Su Le olimpiadi Perché Ieri Si è tenuta A cortina D'ampezzo Quindi Non è un evento Cioè Proprio della Lombardia Però Ha a che fare Chiaramente Beh si no Mai dobbiamo parlarne Le olimpiadi Sono quella roba lì Cortina D'ampezzo Sono più di 300 Manifestanti Che stamattina Appunto Domenica 24 settembre Si sono riuniti A cortina Per inscenare Una protesta Contro la costruzione Della pista da Bob In vista delle olimpiadi Perché Perché si ritiene Dal costo Esorbitante Con un impatto Ambientale forte E destinata A diventare La classica Cattedrale Nel deserto Dice il comitato Cortina Bene comune Bello Il comitato Cortina bene comune Ti piace Fuori onda Mi ha particolarmente Colpito Mi ha colpito Perché Diciamo che Cortina Nell'immaginario collettivo Non è un bene comune Esatto È un qualcosa È un bene fuori Dal comune Ma credo che volessero dire Un'altra cosa Oppure Oppure banalmente Vogliono democratizzare E sarai più che favorevole Sarai più che favorevole Dopodiché Non so se avete mai visto Una pista da Bob Effettivamente È abbastanza impattante Immaginatevi una montagna In cui viene giù Una strisciata Una S Lunga lunga Che sembra un tubo Sembra un tubo di cemento Alla fine Perché è quello D'inverno può essere anche bello D'estate è un pugno In un occhio Che è una roba allucinante C'è proprio brutta 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 E sempre a parlare di Olimpiadi Invece qua Torniamo in Lombardia Perché il presidente Di regione Lombardia Tiglio Fontana Dice che i giovani Saranno i protagonisti Appunto Di Olimpiadi 2026 Ci saranno opportunità Per circa 30.000 posti di lavoro Qui voglio invece Controllare una cosa Allora segniamoci oggi 25 settembre Quanti posti di lavoro? 30.000 Da qui al 2026 Secondo me Questa cifra oscillerà Almeno 6-7 volte Da 30.000 Da 70.000 80.000 20 no Poi ci sarà un momento In cui calerà E poi ritornerà su Perché così Sono numeri dati a caso Secondo me Ho capito Però non è che dobbiamo Aspettare il 2026 Cioè Si intende Nelle settimane di Olimpiadi 30.000 posti di lavoro O a monte Sono numeri a caso Secondo me Perché non puoi saperlo Perché non puoi Allora Tu sai quanta gente Lavorerà là Puoi fare un'idea Di quanta gente Lavorerà da qua a là Ma in realtà no Perché ne perdi Per strada tantissimi Di lavori Che magari sono Complementare Le Olimpiadi E manco sai che esistono Cioè Assolutamente Già nel nostro campo Pensano so Quelli che devono pensare Alle grafiche Di vari Ma ci sono marea Di lavori Perché noi Stiamo sempre a pensare Alle grandi strutture Alle grandi movimenti Ma ci sono tanti lavori Più piccoli Che invece Comunque vanno A impattare Ma anche solo I ristoranti Quanta gente Dovano prendere in più Perché arrivano Quelli che fanno i lavori Insomma Va bene Difficile da calcolare Difficilissimo Ma è impossibile Comunque Qui in numeri a caso La gente da così Va bene Ancora un po' di musica Perché siamo su Crystal Radio Ma siamo anche su Milano News.it Ma siamo anche in FM E subito In Dapp Any way now E come sempre Lo devo dire Quanto ci manchi Emi Back to black Torniamo alle 7.40 Qui su Crystal Radio Crystal Radio .it FM 96.2 Dub Plus Ma anche Milano All News Appunto siamo in diretta Dagli studi Di Milano All News E potete anche Rivederci appunto Su sito di Milano All News Poi Durante tutta la giornata 331-7853-555-555 Il numero di Whatsapp Lorenzo Le notizie sono tante Lunedì spesso Per il weekend Abbiamo Piccola nota di colore Perché Ieri C'è stata la Run for Inclusion Grande Partita La corsa non competitiva Che celebrava appunto diversità Inclusione e sostenibilità Quante persone Chiedimi Fabio Quante persone Lorenzo A parte che non ho capito Cosa è una corsa C'è la diversità Inclusione e sostenibilità Vabbè non ho capito Cosa vuol dire Ma fa niente 7 km 7 km poco più Quanta gente c'era? Allora Per alcune testate giornalistiche 15.000 Per altre 6 La metà quasi Cioè Meno della metà Ma come? Non so Non so Cioè 15.000 6.000 Sono i stessi giornali Cioè due giornali diversi Dicono queste cose qua Beh come sempre Per la questura Due persone C'erano molto più in mente Cioè Ma no ma Io vi sono fatto C'era tanta gente Però effettivamente Tra 6.000 e 15.000 Cioè Fa un po' di differenza Come quando adesso In questi giorni Sta girando la foto Di Ponti Da mezza vuota Non so se ti è capito Di vedere E poi chiaramente Però i social della Lega Sì però ecco Capisci E capisci Lì capisco Lì capisco Cioè Da una parte c'è Quello tirato in casa Che pompa un po' Dice Quanti eravamo? 100? 600 Ci prova E gli altri Che magari dicono Ma va Eravate in tre Ok va bene Ma qui Sono i giornali stessi Quello che mi fa morire Da ritorno Forse sono quelli Della Run for Inclusion Che dicono Avevamo 8 milioni di persone E correvano Va bene Poi anche dirlo Ci sta Nel senso Ci sa che ti aumenti un po' Quello che sei Perché vuoi far vedere Prossimo anno vuoi migliorare E tutto Ma lì Cioè Sono i stessi giornali Quello che io non capisco Boh vabbè Comunque C'è di buono Che sia 6 mila Che 15 mila Anche fossero solo 6 mila Non è solo No no Altimo traguardo Per la Run for Inclusion Bravissimo Ma mi raccomando Scandisci bene le parole Altra notizia Oppure se vuoi Passiamo a luce verde Come vuoi Passiamo a luce verde Perché Ci sono situazioni Più Più gravi Un po' più complicate Che magari Necessitano Qualche minuto in più Qualche minuto in più Quindi leggiamo dopo Adesso andiamo come sempre A vedere la situazione Del traffico Sulla nostra città Poi ricordiamo Che dopo avremo In collegamento Come sempre Come tutti i lunedì Il buon lavoro Di Filippo Poletti Che ci Ogni settimana Appunto con la sua rubrica Settimanale Ci darà qualche notizia Sul mondo del lavoro E ci augurerà Appunto essendo oggi Lunedì Un buon lavoro Un buon inizio della settimana E poi dopo torniamo Ancora qui con tanti ospiti Nella seconda parte Sempre qui Di Good Morning Milano Su Crystal Radio Non ve lo ripeto Per l'ennesima volta 96.2 FM Dub Plus Sito internet Applicazione per iOS Android Oppure Milano News Su YouTube Su Twitch Sul sito Potete rivederci Durante tutta la giornata E ora è linea Linea A luce verde 7.47 minuti Bentornati a Good Morning Milano Siamo qui a leggere Le varie notizie Che arrivano dai giornali Questa è Ramina Con Blanco Appena passata qui Appunto su Crystal Radio Sono le 7.47 minuti 331-78-535-55 Il nostro numero Di Whatsapp A cui potete scriverci Cosa hai trovato Notizie che seguiamo Da tanto tempo Parliamo di CPR Giusto? Esatto Ho chiesto qualche minuto in più Perché appunto La situazione È più delicata Il CPR di Biacorelli Tra pochi giorni Compirà Tre anni Tre anni Senza pace Tra rivolte E cambi di gestione Titolo al giorno Milano Tre anni appunto In cui I migranti Sono lì In attesa di rimpatrio Perché cos'è il CPR? Mi stavi Mi stavi dando Qualche coordinata in più Io sapevo veramente poco Allora Per sapere meglio Basta andare sul nostro sito Di Milano News Ci sono tante trasmissioni Fatte proprio con la rete No CPR Allora sì Siamo un po' di parte Effettivamente Siamo contra i CPR Ve lo diciamo proprio Terra a terra Subito Ma perché? Perché sono dei luoghi Veramente infernali E che mi vergogno A raccontare Che esista un luogo del genere Sulla nostra città Più di una volta Mi abbiamo anche chiesto Al sindaco Cosa ne pensano di un luogo del genere Non ho mai avuto risposta Ahimè peccato Il CPR Sulla carta è un centro Di permanenza rimpatrio Cioè Ti trovo In una situazione di Illecito amministrativo Attenzione Quindi Un immigrato Fa un Illecito amministrativo Che ha a che fare Con la sua posizione Di immigrato Tra parentesi Casualmente Non succede A un immigrato Che viene dalla Svizzera O che viene Dalla Sudafrica O che viene Dalli Stati Uniti D'America Succedono solo Alcune fasce E anzi E' interessante vedere Come adesso Il movimento dei Tunisini Poi qualche mese fa Al momento Dei Nigeriani Insomma Dipende Da alcune situazioni Geopolitiche Che si vanno a creare Comunque Di fatto che La persona Che viene trovata Ad esempio In possesso Di un permesso Di soggiorno Che è scaduto Ma che magari Sta cercando di fare La richiesta Per Cioè Come può succedere Io ho avuto La caratterità scaduta Ad esempio Mi è capitato Non sono riuscito A prendere l'appuntamento Mi è scaduta E poi ho preso l'appuntamento E sono stato un mese e mezzo Senza carta di identità Io Posso fare quello che voglio E il mio Tranquillamente Posso andarmene in giro Se mi beccano Oppure la patente è scaduta Mi fanno una multa Mi ritirano anche la macchina Non so Se mi è capitato Anni fa La revisione della macchina Convinte di doverla fare In un periodo L'ho fatta in un altro Ritiro del sequestro Della macchina Ci sta giustamente La legge è quella E quindi poi dopo Vabbè Fai a fare Ma non sei privato Delle tue libertà Invece Queste persone Vengono trovate appunto In questo illecito amministrativo Vengono prelevate Ovunque esse siano Quindi in mezzo alla strada Tu stai andando Al lavoro Perché magari alcuni Hanno comunque ancora un lavoro Un lavoretto Oppure stai tornando a casa La tua famiglia Vieni preso per strada Portato in un centro Di detenzione Che attenzione In un centro di detenzione Ci sono le sbarre Ci sono i cancelli Le guardie cancelli È una vera E propria prigione Per non Che definirla Lager Come alcuni la vorrebbero definire Per essere buono Questa mattina Stai lì dentro Un mese Due mesi Tre mesi Adesso possiamo arrivare Fino a sei mesi In una situazione Davvero delirante In cui vieni privato Dei tuoi diritti Del tuo cellulare Della possibilità Di comunicare con l'esterno E quindi dire I tuoi parenti Guarda che sono qui Quindi ti danno disperso Per morto Cioè Pensa che tua mamma Che non ti vede arrivare Un giorno a casa E dice Boh Lorenzo Non c'è E non sa chi chiamare Perché non è che La gente chiama il CPR E c'è il centro No non ti puoi parlare Con quelli dentro E quelli dentro Non posso parlare Con quelli fuori Gli avvocati stessi Hanno difficoltà A parlare con una persona Dentro al CPR La cosa sconvolgente È che i politici stessi Hanno avuto difficoltà Ad entrare Noi abbiamo avuto Per fortuna L'intervista Con il senatore Che è riuscito a entrare Il senatore Falco È entrato Non so se sa chi è il senatore Falco Certo Citazione Salga a bordo Salga a bordo cazzo Ecco per intenderci lui Quindi uno che comunque Diciamo agli attributi Scusatemi questo Termine un po' patriarcale Ma per farvi capire l'idea Lui ce l'ha fatta Entrare lì dentro Con altri senatori E ha visto qualcosa di Incredibile C'è veramente Situazioni di autolesionismo Situazioni di La maggior parte Di chi sta dentro nel CPR Che attenzione Stiamo parlando di un numero Abbastanza lieve Per fortuna Non sono tantissimi Il centro attualmente Ospita 44 persone Su una capienza massima Di 48 Ecco Non sono tanti numeri Ma sono 44 persone A cui a Milano Nel 2023 Viene privata Qualsiasi libertà Individuale I diritti umani In quel posto Sono violati Sistematicamente Non lo dico io Infatti non ho paura Di dire queste cose Ma non perché Sono un giornalista Anzi mi cago abbastanza sotto Lo dico per la terra A dire le cose come stanno Ma perché lo dice Lo stesso Stato Quando ha mandato Il garante Della libertà Il garante Delle prigioni Sono un garante Dei detenuti Mandato Ecco Gli ha mandato lì E ha detto Qui viene sistematicamente Violato I diritti umani Di queste persone Quindi insomma È lo stesso Stato Che si controlla da solo Si dà le multe Si dice che non va bene Sta di fatto che Però nel 2023 A Milano 43 persone Sono ancora in questa situazione Scusate il grande Preamolo Ma ci sta E nei giorni scorsi Il governo ha annunciato Il piano che prevede L'ampliamento Della rete Dei centri di permanenza Per il rimpatrio Perché Quello di Milano Appunto è uno Dei nove Attivi in Italia L'unico In Lombardia Ecco Non so cosa dire Nel senso Non so cosa dire Sa di fatto che comunque La situazione Che continuano Ad essere Sono felici Che anche i colleghi Del giorno Finalmente Ne diano adito Ne diano spazio C'è qualcosa Che non va bene Lì dentro Una volta C'era un altro sistema Perché Voglio raccontare Rubo ancora un minuto Una volta c'era un altro sistema C'erano gli SPRAR Chi faceva ad esempio Richieste d'asilo politico Non veniva lasciato così in giro A caso Ma veniva ospitato All'interno di queste strutture Erano degli SPRAR Si chiamavano Dove Finché non arrivava La richiesta Positiva Cioè la risposta positiva O negativa Del proprio asilo politico Stavi di dentro Però i cancelli erano aperti Potevi uscire Potevi anche Trovare delle soluzioni Per fare dei lavori temporanei Molte agenzie hanno aiutato Ad esempio I richiesti d'asilo A trovare Dei lavori temporanei Ed era una cosa Abbastanza Molto molto più civile Da paese civile Da paese civile Che vuole regolamentare L'immigrazione Perché ci sta Che uno dice Ok Devo trovare un modo Per regolamentarla Lo capisco Lo capisco Che chi amministra Deve regolamentare Ma un conto regolamentare Un conto È creare dei luoghi Che sono veramente Dei piccoli lager Tremendi All'interno delle città Soprattutto poi Nel completo Nostro disinteresse Perché poi anche quello Credo faccia molto male A chi poi Sta dentro Sotto psicofarmaci Per superare Certe situazioni Nescono traumatizzati Nescono con sindrome Da post-traumatica Come se avessero fatto La guerra in Iraq Cioè Le cose veramente Tremende Che potete trovare Comunque In internet La retina CPR CHILD Ha fatto una bellissima Ricerca appunto Nei vari CPR italiani Insieme Ai senatori Proprio perché Ha dimostrato Quello che succede Insomma Io richiedo ancora Prendesima volta Come può Un'aggiunta Come quella di Milano Che si dice Di sinistra Tollerare Tollerare Una situazione del genere Wild Boys Wild Boys Sono sempre io Il paninao Niente Non ce l'hai questa? No non ce l'ho Faletti Al drive-in Al drive-in Sono sempre io Il paninao Enzo Braschi Era questo Scusa No Faletti faceva Vito Catozzo Non ce l'ho Non ce l'ho Fantastico Wild Boys Si pensa che Wild Boys De Durandurane Era appunto Un po' la sigla L'inno nazionale Dei paninari Degli anni 80 Tanto che Il giornalino La fanzine Potremmo chiamarla Il giornalino più famoso Dei paninari Si chiamava Era proprio Wild Boys Si chiamava Non lo sapevo Era proprio Wild Boys Era proprio il nome Di quella fanzine Insomma A me piacciono molti Durand Sarà Che mio padre L'ascoltava sempre Ma Beh si A me piace Forse una delle poche cose Che salviamo di quel genere Cosa resterà Di quest'anni 80 Ma può darsi Chissà Può essere Può essere Tanto il fatto che No Milano Wild Boys È un binomio Indissolubile Proprio Si 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 Sono sempre Vado a cercare Enzo Braschi Sono sempre io Il paninario Lo faccio sentire dopo Anche perché Quei paninari là Sono quelli che poi Hanno fatto il passaggio No E sono diventati un po' Gli upis Sai cos'erano gli upis? Lo so Grazie al film Ecco Erano quelli lì No si Alla fine erano quelli Quando erano giovani Gioveni Paninari Appena laureati Diventavano upis Era un po' La differenza Gli anni erano quelli lì Upis era Il safe made man Si Il safe made man Quello che doveva fare Andare un po' Non è niente di diverso Dal milanese imbutito di oggi Assolutamente Fatturato Fatturato Pago Pago Pretendo C'era quella roba lì Capito Fera Capito Quella roba lì era Adesso Dal milanese imbutito All'epoca Gli upis Tutto lì Ma perché tutto sto Panigirico Per arrivare dove? Per arrivare dove? Al fatto Che oggi è lunedì E lunedì cos'inizia? La rubrica Di Poletti È arrivata la seconda puntata Filippo Poletti Top voice di LinkedIn Con la sua rubrica Buon lavoro E allora Buon lavoro Lo campioneremo Buon lavoro Allora buon lavoro Con Filippo Poletti Nella nostra rubrica Settimanale Appunto Top voice Di LinkedIn Italia Buon lavoro a tutti La prima parola Della settimana È italianità Si chiude oggi La Milano Fashion Week E grandissimo ritorno Di Fiorucci Il brand Creato Dal milanesissimo Elio Fiorucci A presentare Le sue collezioni È stato anche Giorgio Armani Che al Financial Times Ha detto Non vendo Ai francesi Lo trovo Un po' ridicolo Vogliono prendersi Tutto Viene in mente Una dichiarazione Sempre di Armani Qualche anno fa Era ferragosto Del 2017 A Paola Pollo Su Corriere della Sera Disse Non condivido L'idea Che Milano Sia La periferia Di un impero Ebbene Qualcuno Da Gucci A Bottega Veneta A Luxottica O Fiat Chrysler Si è unito Ai francesi Giorgio Armani Tira dritto La seconda parola Della settimana È parità Un esempio Elena Lenti 58 anni La prima donna Macchinista Di una metropolitana Italiana Alla fine Della sua ultima Corsa Alla stazione Di Crescenzago A Milano È stato diffuso Un bellissimo Audio Messaggio Di ringraziamento Dunque Grazie Grazie mille Elena Diciamo Anche noi Per il tuo esempio Dato Pensate un po' In 33 anni Di servizio Terza E ultima Parola della settimana È Gentilezza Scade Questo sabato Il 30 settembre Il termine Per presentare La propria candidatura Al premio Gentilezza Italiana Ci sono Quattro categorie Da persone A imprese Innovazione E associazione Insomma Partecipiamo Premiazione Il 13 novembre Del 2023 A Palazzo Cusani A Milano Che vinca La gentilezza Sempre In ogni posto Di lavoro Buon lavoro A tutti Italo Disco Italo Disco Cantata dai The Colors Dai The Colors Hanno fatto un concerto Nel weekend a Milano C'è stato un piccolo incidente Perché ridiamo Sabato sera Perché non è successo niente Ah ok Perché non è successo niente Mio figlio poteva morire Come diceva Pugni Banco dei pugni Banco dei pugni Milano Finisce male il concerto itinerante Dei The Colors Titola Repubblica Perché Perché hanno fatto appunto Questo concerto itinerante Su un battellino Un battello In Darsena Sì I battellini fanno avanti e indietro Su Darsus Su Naviglio Esatto Solo che a una certa A una certa Mamma mia Che termine giovanile Che termine giovanile Stascia avrebbe detto A una certa A una certa A una certa A una certa Siamo lì Che stiamo a navigare Ma sono solo Edito come almeno Stascia Sai che non penso proprio Ah no Ah non lo so No è del sud Ah beh allora guarda Se forse Napoli Scherzo Forse Napoli Adesso cerco Comunque Mi avanti con la notizia Sostanzialmente In un certo momento È iniziato a imbarcare Acqua Il presidente di Navigami Bellissimo acronimo Sai che Gli amo io Ha certamente in corso Non sappiamo ancora Cosa sia successo Lieve inclinazione Del mezzo Durante l'esibizione Della band Allora Il gruppo In realtà nasce a Milano Pensa I The Colors Sono di origine milanese Come gruppo Quindi Mi era capitato Di sentirlo parlare In Antonio Fiori di Spino Beh il cognome Sembra un po' Partenobio Come dici tu Però non ho Non cerco Se vuoi La formazione Non ha la pagina Wikipedia Potremmo La pagina Wikipedia Dice che nascono a Milano No no lui Non ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Ha ritrovato No infatti Allora La notizia in realtà È che Antonio Stas Fiori di Spino Non ha la pagina Wikipedia No E che c'è un parente Nella sua band Alex Fiori di Spino Perché Attenzione Sarà il fattello Non lo sappiamo Vedi cosa si scopre E beh non so Non hanno le pagine Wikipedia Nessuno dei due Non capisco come mai Non lo sappiamo Adesso vediamo Stash The Colors Cosa viene fuori Ma intanto magari Vado avanti con le notizie Sì tu vado avanti Intanto io Gugulu Gugulu E Gugulu E Gugulu E allora La città No È la signora Italo-americana Che parla con E Google E Gugulu E dice così Ah no l'ho visto No fantastico Andate a cercare Ricordiamo che la città di Milano In collaborazione con Libera Organizza per oggi Lunedì 25 settembre La giornata della trasparenza Una mattinata di confronto In sensibilizzazione Sui temi dell'anticorruzione Della legalità Ospiti Il sindaco Giuseppe Sala Do Luigi Ciotti Presidente di Libera E docenti universitari Come Alberto Vannucci E Nando Dallachiesa Ah hai capito Caserta comunque Caserta Nasce a Caserta Ma si trasferisce a Milano E poi anche a Londra Per studiare appunto musica C'è sempre Allora Pensa che inizialmente Si trasferisce a Milano Per studiare pittura All'Accademia di Brera Poi passa a nuove tecnologie Sempre appunto a Brera E in seguito va a vivere a Londra Dove lavora i piatti Come tutti noi italiani Quando andiamo a Londra Nel primo giro E poi dopo va a mettere su anche Un Pensa che già i The Colors Furono Resident Band Un lontano locale Che tu potresti riconoscere Che era Le Scimmie Poco prima che chiude Posso dire che è sfortunato Incomincio a starmi simpatico Stasch Allora Tra parentesi Le Scimmie Se avete presente Naviglio C'era questo locale storico del Naviglio Dove si suonava su un barcone Ok Questo diventa Resident Band Di quel buon locale Il locale chiude No Fa il concerto sul barcone Il barcone affonda Insomma Stasch Ti sono vicino Ti sono davvero vicino Questa mattina Cristal Radio ti avvicina E perché le cose Sono sempre infinite E si ripetono È il momento Allora di passare Ho cercato un gancio Che non esisteva Ai Daft Punk Con Infinity Repeating Daft Punk Infinity Repeating Che rebelot Però Avete sentito Il finale L'errore Rebelot L'errore Rebelot Comunque 8 e 24 minuti Stiamo per arrivare Alla fine della mezz'ora Torniamo leggermente Sulla notizia prima del CPR Perché ci ha arrivato Un aggiornamento Grazie alla rete NoCPR Perché mai più lager NoCPR Annuncia che mercoledì 27 settembre Quindi questo mercoledì Alle 18 e 30 Davanti alla profittura Di Milano In via In largo 11 settembre Sostanzialmente Ci sarà un presidio Per sensibilizzare Sul tema Ok Quindi la chiusura Portare alla ribalta Tornati appunto Alla ribalta Sia da una parte Perché il governo Vuole inasprire Le pene E aprirne di nuovi Sia perché Nei giorni scorsi Ennesimi tentativi suicidi Ennesimi Autiolesionismi Per cercare di essere Portati poi in ospedale E almeno facendo così Hai il modo di Comunicare Con l'esterno Brutta brutta storia Che comunque Continueremo a seguire E settimana Cercheremo anche Di avere i contatti E di avere qui ospiti La rete NoCPR Siamo arrivati Alla mezz'ora Caro il mio Masini Masieri Non vorrei che ti abitui Troppo a essere Chiamato con nome giusto Continuiamo quindi Con la musica Invece in questo caso Megan Treno Ti piace? Non so neanche che faccio Ti dico la verità Ti dico che è una Di quelle che piace a me Ok Sì sì Proprio un bel tipino Di quelle che piacciono a me Sentiamo E allora Megan Treno Con Made You Look Max Pezzali 8 e 33 minuti Qui su Crystal Radio Max Pezzali Con gli anni 8 e 33 minuti Sì Quasi eh Cioè? È per 8.83 Ah Mamma mia Che roba Io mi avevo fatto apposta Mi avevo fatto apposta 8 e 33 minuti Per gli 8.33 Non era male chiamare Gli 8.33 Invece degli 8.83 Comunque C'era la moto C'era un motivo però Per cui ho messo gli anni Perché l'ospite di questa mattina Che con noi ha scritto un libro Caro mio Masieri Tu leggi libri? Sono senza figure Ogni tanto sì Allora no Infatti immaginavo Immaginavo Si intitola 12 mesi di newsletter Oppure se l'avete scritto Max Pezzali Un anno di newsletter L'avrebbe fatto così L'avrebbe fatto Però effettivamente 12 mesi Dall'idea di che c'è più roba dentro C'è un anno C'è solo un anno No no Oh c'è un 12 mesi Come quando dici Che i bambini Quanti anni ha? Quanto tempo ha? Un anno e mezzo No ha 18 mesi 36 mesi Sembra che sia più 36 mesi Quello è famigiano reggiano Sembra che sia più grande Infatti Sembra che sia più grande Stati fatto che il libricino È piccolo Ma quello che ci puoi fare È molto grande Diamo il benvenuto A Daniela Ceriana Grazie Buongiorno C'è un anno Nel sottotitolo Guida pratica Per un anno Di mail marketing È vero È vero Allora Entrambe le letture Ci sono entrambe Puoi decidere Puoi decidere tu Infatti Io faccio 12 mesi Così faccio passo passo Un anno intero Mi mette ansia Faccio un mese alla volta 12 mesi Allora Daniela Ceriana Tu sei un'esperta Diciamo Di mondo Delle mail marketing Del digital Ma soprattutto Proprio delle newsletter Perché tu Io pensavo fossero Morto stra morto Come si dice No? Le newsletter Le newsletter Che sono quelle mail Che arrivano a casa Vi dà un fastidio E buttatele uno spam Per me era quello Invece non è così No esatto Le newsletter Sono quel canale Di comunicazione Che sta seduta Sulla sponda del fiume E guarda i social passari I cadaveri dei social passari Ah vedi Perché la newsletter È la prima che è arrivata Ed è ancora vive e vegeta Tra di noi Hai capito Perché come funziona Cioè Un'azienda Ma chiunque Qualcun professionista Anche il bar sotto casa Volendo Anzi Tu mi dicevi che Spesso i venitieri Sono proprio quelle super local Che funzionano anche Esatto Può tranquillamente Comunicare con i suoi clienti O potenziali tali Tramite le newsletter Come funziona? Anche le no profit Tra l'altro Quindi non devono essere Per forza clienti E anche ad esempio Un content creator Che parla a un pubblico Però non monetizza Da quel pubblico Quindi La newsletter È un mezzo Semplicemente Praticamente È Qualsiasi comunicazione Che non siano le mail Tra privati Tra gli amici Che dico Ci mettiamo d'accordo Per tutto il resto Quando fai il fantacalcio Non è una newsletter Non è una newsletter Poi tra l'altro La newsletter È una parte Dell'email marketing L'email marketing Fondamentalmente Ci sono le newsletter Ci sono le dem Che è direct email marketing Che sono di solito Quelle che finiscono Nello spam Perché è diverso Ah è diverso Cioè quella che mi arriva Dicendo Oh non puoi perdere Ti è arrivato Il tuo nuovo sbiancatore Per i denti Non è una newsletter È una dem Capito E tra l'altro E il pidinta Non è la stessa cosa No Non è dem Scusa I dem Questo è la dem Ok scusa E tra l'altro A livello di GDPR Quindi di regolamento Per la privacy GDPR Ah ok Quello si GDPR Come chiamiamo noi italiani Viene visto In modo diverso Ad esempio La dem Quindi se io Ti voglio vendere Un prodotto C'è una cosa Che si chiama Soft spam Quindi spam Più leggero E io per legge Se sono un negozio Ad esempio di abbigliamento E tu hai comprato Dei costumi da me Io ogni anno Ti posso mandare La mail di dem Dicendo È uscita la nuova collezione Comprala qui In quel caso Non ho bisogno Del tuo consenso È l'unico caso In cui non c'è bisogno Del consenso Cioè quando io ho acquisto Diciamo Do una sorta di consenso A senso A farmi ridire Questa cosa ti è interessata Una volta Magari ti interessa ancora Sì ma solo Di prodotti e servizi Che siano coerenti Con quello che hai comprato Cioè se sei Poi vabbè Ci sono sempre Interpretazioni Se vado a comprare Il mangiare per il cane Magari mi arriva anche Il mangiare del gatto Però non ti arriva Il toner della stampante Ok chiarissimo O se ti arriva Tu puoi fare La comunicazione Al garante della privacy Io mi occupato Il mangiare del cane E mica il toner del Esatto Poi fare la comunicazione Al garante della privacy Dire hanno usato i miei dati Senza il mio consenso E allora Non abbiamo capito nulla Cosa sono le newsletter Allora Per te cosa significa La newsletter E' questa roba qua Quello che ti mette Nelle promozioni Google Google mail Invece è qualsiasi comunicazione Che ti arriva Da un'azienda Un'associazione Una Persona giuridica Chiamiamola Facciamo così Quindi chiunque Ti vuole comunicare qualcosa Se ti manda una comunicazione Ti manda Le newsletter di solito Sono periodiche Periodiche Ok Quindi io mi sono In un certo senso Iscritto Si ti sei iscritto E' come se mi fosse Una rivista quasi Esatto Usando termini sbagliati E cosa ti arriva In questa newsletter Ti arriva quello Che decide La persona che scrive Hai capito E per decidere Cosa scrivere Sai come fai? Compri il libro La mia ceriana A 12 mesi di newsletter Giusto Abbiamo capito Esatto Cioè tu in questo libro Spieghi Dai dei consigli Su come Essere Pensiamo sempre Al passo Con quello che succede Durante l'anno Perché ci sono Dei momenti Diciamo Delle cadenze Delle scadenze Durante l'anno Che si possono Tra virgolette Sfruttare Per poter comunicare Meglio il proprio business O la propria associazione O quello che vuoi E comunicare Con chi ti segue Facciamo un passo indietro Il perché serve questa cosa Questa cosa serve Perché bisogna creare Una relazione Con la persona Che ci segue Capito Perché la vendita Non è semplicemente Quindi fai la newsletter Per cercare una fidanzata No Cerchi la relazione Così Ma si Ce la puoi fare Perché effettivamente La relazione Tra chi vende E un potenziale acquirente Un acquirente È una sorta Di relazione Di corteggiamento Perché bisogna Conoscersi E il potenziale cliente Deve capire Che l'offerta Fa parte È per lui O per lei L'offerta giusta Cioè nel senso Che capisco Che alla fine Non è appunto Una mail Che è arrivata A milioni di persone Così dicendo C'è questa novità Ma è quasi quasi Studiata un po' Su di me Anche emotivamente È più percepita Come una comunicazione Più personale Ok Chiaro Chiaro Allora Facciamo così Adesso ci fermiamo Per un pochino Di musica Ovviamente Perché siamo qui Su cristal radio E la musica Non può mancare Ma quando torniamo Entriamo a vedere Allora Questi benedetti 12 mesi Mi sono curioso Mi sono curioso Di capire Cosa fare Il giorno Del tuo compleanno A questo punto Non so Mi è venuto in mente Perché c'è un po' Diviso messe per mese Ci sono tutti i capitoli Gennaio Febbraio Marzo Scusa Tornando sul discorso di prima L'alfabeto non lo sai I mesi I mesi certo Cosa viene dopo Giugno E cosa devo dirti Quello dopo Quelli dopo Luglio Agosto Eccetera Ah ok Se mi dici Dio Marzo Aprile Maggio F A B C D E F G Non si chiama C D E G Fantastico Fantastico Davide Torniamo fra pochissimo Questa è Miriam Makeba Miriam Makeba Non è vero Ah no Perché è Jane Che canta Makeba Miriam Makeba Era un'altra cantante Famosissima Ma che sto a perdere Tempo con te Dai Allora Che non è Jane Con Makeba L'avete capito Subito Appena partito Questi erano Tanana In Marrakesh Ma soprattutto Merck Cremond Con un altro mondo Me la metto dopo Va bene Jane Va bene Ok So che ci tenevate 8 e 42 minuti Qui con il nostro ospite Daniele Ciriana Per parlare del libro 12 mesi Newsletter Allora Il libro come funziona Cioè per chi è E come funziona Il libro è per tutti Quelli che vogliono Comunicare Attraverso la newsletter Quindi tutti quelli Che vogliono creare Un rapporto Con le persone Che li seguono Una Vogliono Appunto Creare un'interazione Con le persone Che li seguono Per poi Vendere qualcosa Quindi di solito È un business Oppure Se hanno un altro Modello di business Come ad esempio Gli influencer Che monetizzano In un'altra maniera Però hanno bisogno Di un pubblico Di persone che li seguono Quindi per tutti Quelli che vogliono Parlare con chi li segue E come lo possiamo Utilizzare Può essere una guida Da usare tutti i giorni No? Sì Allora Qui c'è la mia risposta Preferita nel mondo Della consulenza Che è Dipende Ok Che è una risposta Che sta un po' Sulle valle Però effettivamente Nella comunicazione Tutto dipende Pado Depende Sa che Depende Oggi stai facendo Troppe citazioni Che non sto capendo A ravele palo Depende Eh non ce l'ho Vabbè però Prendi vai fuori Allora Presidente di Cristal Radio Chiedo che mi sia cambiato La spalla Sono fortissimo Su quelle citazioni lì Tu Tu sei solo Sanremo No Ci capiamo io e te Ma oggi Veramente difficile Va bene Difficile Difficile Comunque Essendo un calendario Tra l'altro Un calendario di contenuti È nato per Scrivere delle newsletter Quindi per produrre Delle newsletter Ma in realtà Può essere utilizzato Anche per chi comunica Sui social Quindi aiutare a costruire Un calendario editoriale Sui social Perché spesso Non si sa che cosa dire Tante volte Dici che cosa dico E quindi come allora Quindi è diviso in mesi È diviso In due sezioni in realtà Prima c'è Tutta una guida Molto breve Molto pratica Su come pianificare Un anno intero Di contenuti Quindi consiglio Di mettersi lì Una o due volte l'anno Di sedersi Prendersi Una mezza giornata Qualche ora All'inizio Le prime volte Sarà un pochino Più complesso Ci vorrà un pochino Più di tempo Per fare questo lavoro Però Avere il quadro Dell'anno che verrà Avere la visione D'insieme Cercare di capire Come fare una comunicazione Mese dopo mese Che sia coerente Quindi per mandare Un messaggio Che sia coerente Alla fine del libro Spiego anche come fare Una revisione annuale Quindi Prima di fare La successiva pianificazione Vedere come è andato Quello precedente E poi c'è una parte centrale Grossa In cui analizzo Mese per mese Ogni Ogni mese dell'anno Qual è l'atmosfera Quali sono le festività Principali In Italia Io mi Mi concentro Sull'Italia Perché poi Le festività Le giornate nazionali La cultura Sono Cambiano molto Da paese a paese Da persona a persona Insomma La Mi sono concentrata In Italia Perché questo è il mio Campo d'azione Fondamentalmente Anche se in realtà Ci sono alcune Festività Internazionali Che non sono Di origine italiana E però stanno prendendo Sempre il piede E le feste importate Da Dallu In che la più famosa Poi vi sono San Patrizio Che ogni anno È sempre più importante C'è anche Il 4 di luglio Che noi non abbiamo Niente a che vedere Con l'indipendenza Degli Stati Uniti Però Essendo un'occasione In cui si festeggia molto Ci piace importare Le festività Anche perché ci piace Avere sempre occasioni Per festeggiare Insomma Per fare cose speciali Faccio una piccola osservazione Perché appunto Mi incuriosiva La divisione in mesi Appunto Che riporta anche Le festività Eccetera E pensandoci Io effettivamente So quando è la festa Della mamma So quando è la festa Del papà Dei nonni Eccetera Quando mi arriva La newsletter Di un Un noto Quelli che stampano Le foto Dio non mi Però non dico il nome Sì ho capito Che ti ricordano appunto Che c'è la promozione In vista della festa Di Totti In vista della festa E poi le newsletter Tipo in Durante l'inverno Durante l'estate Hanno effettivamente Tutta altra grafica Tutto altro Esatto Tutto altro sapore Ok Infatti come bonus Mi devo interrompere Perché adesso è arrivato Il momento di Jane Con Makeba Ci sentiamo fra pochissimo Subito dopo La piccolissima pausa A fra poco Ve l'avevo promesso Jane Makeba Eccola qui Alle 8 e 49 minuti Sempre qui su Crystal Radio Sempre qui Con Good Morning Milano Insieme a Lorenzo Masieri Fabio Ranfi E il nostro ospite Daniela Cerigana Chi è la domanda Qual è Diciamo la parola fondamentale Del marketing Del marketing In generale hai detto Qual è che era la domanda La parola principale Dipende La risposta è dipende Hai capito qual è Non si erano messi d'accordo Lo giuro Ma ho fatto la fatica Lui grande Rabbe de Palo Anzi un grande Ricordo a Rabbe de Palo Che ci ha lasciato Fin troppo presto Grande cantante Tutto dipende Scusate Un momento Di amarcò Infatti lui dice Da che punto Guardi il mondo Tutto dipende Perché effettivamente È semplicemente Punto di vista Perché quando mi chiedono Ma funzionano le newsletter Ma i lettori Leggono le newsletter Dipende Dal loro punto di vista Se arriva una comunicazione Che per loro è importante La leggono L'aspettano E io ho Seguito dei progetti In cui doveva arrivare Una newsletter In un certo orario Non è arrivata Perché si è inceppato Il meccanismo Le persone sconvolte È successo qualcosa Oh mio Dio Ho bisogno di questa newsletter Un po' come la mattina Quando noi magari Abbiamo in ritardo Di un minuto o due Che la gente Inizia a chiamare Alla radio Dicendo ma come mai Non c'è Fabio Lorenzo va bene Ma come mai non c'è Fabio Si chiedono No invece ci siamo qui Tutti i giorni Dalle 7 alle 9 Su cristal radio E Milano All news Dicevamo invece Allora oggi che giorno è a proposito 25 settembre Allora oggi Se dovessimo fare uscire una mail Oggi Una newsletter Oggi scusa Allora andiamo a vedere 25 settembre Siamo ottobre Settembre 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 è Un nuovo inizio L'hai chiamato Sì Oggi è la giornata mondiale dei sogni Ah hai capito Ecco perché c'è il sonno Stai ancora sognando Masieri Pensa che è lunedì Pensa che è solo lunedì Invece ad esempio Settembre è un nuovo capodanno È il doppio capodanno Diciamo in Italia L'anno inizia a settembre In realtà Cioè no in realtà Ci sono questi due momenti Che indicano l'inizio Di un nuovo ciclo Di un nuovo anno Può essere perché Molti si agganciano Al rientro a scuola di bambine Quindi anche il rientro lavorativo Dopo le vacanze Però in realtà Anche anticamente Era una nuova stagione La fine Cioè Settembre Alla fine dell'estate Alla fine della stagione del raccolto Iniziava un altro anno E invece è interessante Ottobre Sottotitolo di ottobre Coccole e relax Beh Sì Perché è l'autunno Così allora ci mettiamo lì Sì divano Tisanina Ma questo vale per tutti Cioè questo diciamo Alla fine della fine Questo proprio Declinarlo un po' per tutti Cioè effettivamente Che io Faccio una newsletter Dove parlo di videogame Esatto Oppure che faccio una newsletter Dove parlo di Pasta dentifricia Cioè per assurdo Sì perché comunque L'anno è ciclico Ecco ci sono le stagioni Che si susseguono Anche se Ultimamente Negli ultimi anni Sì non ci sono più Le mezzestagioni È un pochino più Complesso Questa cosa Perché magari Dici Settembre Io mi ricordo Qualche settimana fa Quando facevo la revisione Settembre dicevo Ah si abbassano le temperature Finita l'estate Guardavo fuori C'erano ancora 30 gradi Però tutto sommato Comunque questa Questa ciclicità c'è E tante volte Siamo molto più Legati alla ciclicità Per un concetto di Passami il termine Abitudine Che non di Temperature che c'è fuori Per dare un'idea Appunto di settembre Come ripartenza Eccetera Se leggiamo il primo consiglio Suggerimenti Per pianificare al meglio Il nuovo periodo dell'anno Rimanere motivati E mantenere alta La produttività Esatto Rimanere motivati Lo puoi fare solamente Se prima c'è stato Un qualcosa Che ti ha dato Un po' uno stacco Ti ha fatto rilassare Come le vacanze Quindi è più che Comprensibile Per me Settembre E gennaio Anche Poletti L'aveva letto Qualche settimana fa Nella sua buon lavoro Forse dovremmo cominciare A pensare Che l'anno Inizia a settembre Interessante Come invece C'è un mese Che vi si è bistrattato Da tutti quanti Tanto non c'è nessuno Che è agosto E' un mese In cui si vende tantissimo E' un mese In cui si fa Tantissima comunicazione E soprattutto Per chi fa UGC User Generated Content Cioè I contenuti Creati dagli utenti Ah giusto Perché sono in vacanza Possono farlo Quindi magari D'estate Si può fare Una challenge In cui si invitano Gli utenti A pubblicare Determinati contenuti E così si ha Le persone più ingaggiate Ho capito E interessante Fate il titolo Il fuoco della trasformazione Cioè si dà Un là Anche a Migliorarsi Sì anche perché Rallentando d'estate Ci si mette Un pochino più Si pensa un po' A come si Rallentando E tu quando è che fai il compleanno Ad aprile Aprile cosa facciamo Per la newsletter del compleanno Di Aprile dolce dormire Aprile dolce dormire E lo prendo da letto Dipende perché Ci sono certe festività Che sono fisse Come il Natale Certe festività Che cambiano come Pasqua Quindi se ad aprile Cade Pasqua Vinciamo facile Sei il nostro Coniglietto pasquale Sei Lorenzo Quest'anno che arriva Mi sembra che sia Il 31 di marzo Giù di lì E quindi ad aprile Andremo più sui contenuti Primaverili Chiarissimo Chiarissimo Sapete che dobbiamo salutarci? Di già Sì di già Dobbiamo già salutarci Siamo già arrivati alla fine 8 e 55 minuti In questo istante E dobbiamo salutarci Sì Però a questo punto Io ringrazio Daniela per essere qui con noi Grazie mille Grazie mille Dove si trova il libro? Allora il libro si trova su Amazon Su Amazon Se hanno domande da farmi Mi possono cercare Praticamente su tutti i social Comunque principalmente Instagram LinkedIn Facebook Danielaceriana.com Funziona? Sì sì funziona Ci sono un po' raggruppate Tutte Perfetto È un sito molto semplice In cui ci sono raggruppati I miei contatti Chiarissimo Lorenzo Dobbiamo davvero salutarci Non neanche rientro dopo Dalla pausa Perché oggi siamo andati lunghi Abbiamo tempo di dire Hai sette secondi Allora non abbiamo tempo di dire Ci vediamo domani Dalle sette alle nove In diretta su Crystal Radio 96.2 Ecco bravissimo Ma io ho 19 secondi Di intro sulla canzone Per salutare Per salutare tutti Grazie mille E chiudiamo con una canzone Che non abbiamo ancora messo Questo mese Parla di mesi Parla di settembre Non abbiamo ancora messo Settembre Degli Art Wind & Fire Sì che l'abbiamo messa L'abbiamo messa Ah cavolo Allora la memoria è andata Ciao domani Ciao domani Ciao domani Grazie a tutti.